Hanno fatto discutere parecchio le dichiarazioni di Mauro Natale, presidente di Confindustria Molise, all'ultima Assemblea degli Industriali di Benevento. Mauro ha detto chiaro e tondo che la difesa dell'autonomia del Molise non è più conciliabile con l'attuale situazione economica del Paese. Bisogna federarsi ed unirsi per macro-obiettivi, perché se il Sud resta diviso in piccole autonomie, il distacco dal centro-nord non potrà che aumentare. Per questo Mauro Natale ha chiesto un'intesa con le altre regioni del Sud, un'intesa che potrebbe anche servire da preludio ad altri discorsi, come quello dell'integrazione delle reti. Il divario tra il nord e il sud dell'Italia aumenta sempre di più. Negli ultimi anni c'è stato ancora un divario importante. Non se ne parla più di mezzogiorno, non se ne vuol sentir parlare di mezzogiorno sia a livello governativo sia anche un po' a livello confindustriale. Però il mezzogiorno esiste, quindi ci dobbiamo dar da fare. L'Assemblea di Benevento è servita a mettere al tavolo un po' tutti i presidenti di Confindustria regionale, parlare insieme e forse io ho buttato là l'idea di ragionare come area del mezzogiorno, un'area territoriale unita e non più divisa perché avere delle peculiarità come Regione Molise, come altre regioni, Campania eccetera, singolarmente non vale a nessuno. Dobbiamo ragionare in termini di unitarietà. Con la crisi economica non si può vivere più da soli, insomma bisogna unirsi. Questo mi sembra il messaggio. Sì, unirsi anche perché arrivano tra poco i fondi di coesione territoriale per il Sud, sono dei fondi importanti e sicuramente bisogna gestirli bene, dobbiamo tutti quanti gestirli il meridione interamente in maniera giusta e corretta, non pensare esclusivamente alle varie tematiche regionali, ma pensare a un discorso di infrastrutture importanti per il meridione d'Italia. Senza le infrastrutture noi non andiamo da nessuna parte, le industrie fanno fatica ad arrivare da noi. Poco fa ho sentito l'intervista del presidente dell'Unilever, amministratore delegato, che diceva appunto sulle infrastrutture. È importante avere le infrastrutture per far sì che questo territorio sia più competitivo con tutta l'Europa, neanche più con l'Italia. Sta preparando l'assemblea del Molise, grosse novità. E chi arriverà qui in Molise? L'anno scorso portò Squinzi, quest'anno chi porterà? Dovevamo fare l'assemblea nostra di Confindustria nel mese di maggio. C'era stata l'opportunità di avere il presidente del Consiglio Renzi, dopodiché con i vari impegni eccetera non è stato più possibile. Un impegno anche preso da parte del presidente della regione Molise di Laura Frattura. Stiamo riprogrammandola per ottobre. Abbiamo invitato il ministro della Salute, la Lorenzin, che credo che arriverà sicuramente, abbiamo chiesto a lei una data. Vediamo un attimino adesso quello che succede, insomma, speriamo di averla.